Bentornati e bentrovati, siamo in Gashin Impact, uscita la versione, io mi sono alzato dopo, mi sono anche uscito per fare una cosa Fa caldo, la mia camera sta diventando un forno già, praticamente perché sta più di 18 ore al giorno sotto al sole Allora, presentazione di Kilala, 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 che praticamente ha rotto l'internet perché letteralmente è probabilmente una delle cose più carine che si siano viste in questo gioco Ma ci sono dei contendenti, ovviamente La penso sia stata proprio fatta per essere carina e cose così, infatti non... Sucita è abbastanza basico, non c'è stato il drip marketing al momento, nel senso non hanno presentato niente dopo questa patch Su Twitter almeno non c'è stato niente Quindi, presentazione di Kirara, 4 stelle, quindi si può ottenere sempre praticamente Dopo questa patch però, penso, quindi si potrà ottenere sempre In ogni banner, anche nel banner base Un personaggio di Dendro, di Nazuma, che utilizza la spada Che non ha senso perché il suo stile di combattimento, come potete vedere Ah, hanno... Ce l'hanno messo due immagini dove usa la spada allora Però, per lo più, utilizza i suoi poteri da yokai È una necomata, è una fattorina del komania express, eccetera, 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 eccetera Utilizza la spada Un scudo che salta, non sbaglio, all'indietro Che fa un calcio all'indietro e crea uno scudo di Dendro Che praticamente essorbe danni di Dendro più che altro Lo scudo è basato sui suoi HP massimi Non aggiunge, non so, non supera una certa percentuale Dei suoi HP massimi Rimane lo scudo, perché non l'ho rotto Se poi lo riattivi un'altra volta si rifrescia praticamente Non si... si risetta, non si... si stacca, ma non si... non se ne va praticamente Se invece si tiene premuto il pulsante Si trasforma... lei, praticamente trasforma in questa scatola con due code che corre praticamente E comincia a correre praticamente in linea retta praticamente C'ha un consumo di stamina minore Ha una velocità di movimento maggiore Ha una velocità di scalata maggiore E può saltare molto più, un pelo più in alto Poi però il fatto che corre sui muri più velocemente C'ha sta cosa che consuma più stamina praticamente Mentre sale almeno Fa danno di Dendro a tutti i nemici che colpisce mentre corre Questa... Beh, da dire Ah giusto, sta a cooldown Adesso ve la faccio vedere È una delle cose più carine veramente che abbia mai visto Forse perché il doppiaggio in giapponese è ancora meglio Dura abbastanza Ma che la stamina non mi consume Quando finisce, finisce con un attacco di... Un attacco di... Un attacco che fa Dendro, eccetera, eccetera È un po' simile a se ci avete presente All'abilità di cosa? Di... Sayu? Che è più o meno simile solo che Sayu faceva danni da Dendro Dal evento di Anemo Faceva lo Swirla e poi finiva con un attacco d'aria Questo è il 6.000 Può rimanere... Può durare fino a 10 secondi Massimo E quando finisce questa cosa entra in cooldown Più tempo rimane in questo stand In questa modalità che puoi corre Più... Il cooldown è alto Praticamente E scattare o attivare... Si può cancellare praticamente... Praticamente questa abilità Mentre la ult è molto semplice È una specie di abilità che c'ha cosa? È l'attacco caricato che c'ha Yanfei praticamente Molto simile L'elemento del boss facilmente evoca Sto pacco enorme che... D'energia di Dendro Che fa danni a OE di Dendro in atterraggio Esplode, fa danni E poi sta un sacco di... Lascia tanti Catgrass Gardamon Che dovrebbe essere... Gardamon di Erba Che atta una cosa che già dovrebbe... Se volunque Che esplodono a contatto con un bersaglio Dopo un certo periodo facendo danni da dentro Molto semplice E molto facile da capire Il kit, ripeto Sono poche cose La prima abilità La prima talento Funziona così Quando colpisce un nemico Mentre sta correndo Me lo dai da scatola Praticamente guadagna una carica Di questa passiva Chiamata Rinforzamento del pac... Rinforzamento del pacco Impacchettatura rinforzata Potremmo definirla Non lo metto in italiano Perché non c'ha pazienza Per ogni nemico che colpisce Ogni 0.5 secondi Ottiene una carica Al massimo 3 cariche Quando questo stato... Quando lo stato del... Modalità pacco urgente Finisce Praticamente Creerà una carica... Creerà uno scudo Praticamente Per ogni carica Praticamente Al 20% Vediamo Scudo creato in questa maniera Al 20% Dell'assorbimento dei danni Che l'abilità L'elemento skill avrebbe Quindi non è proprio identico E non è più potente Se è già protetto da uno scudo Creato da quello... L'elemento skill Il danno si... L'assorbimento dei danni Si stacca con lo scudo L'elemento Quindi praticamente E la durata è risettata Per avere diciamo Un continuo di avere uno scudo Però ricordarsi di Praticamente Posso dire Attivare la modalità caricata Colpire più nemici Eccetera eccetera Esattamente come dicevo Come Saiu Che ti devi mettere a rotolare su Vari nemici Che c'hanno addosso A uno status elementare Per fare più cose Secondo talento Quello che si ottiene A livello massimo Se sbaglio All'80 Per ogni 1000 HP Massimi Che Kirara ha Praticamente aumenterà I danni fatti Dalla benedetta skill Del 0.4% E danni Dalla sua ulti Dalla sua Elemental burst Dello 0.3 secondi Quindi Della 36% Scusatemi Quindi vuol dire che Va buildata HP Sì Più o meno Penso che sì Perché da quello che vedo qui Va buildata HP Una build che sta andando molto Questa cosa degli HP multiple Passiamo alle sue costellazioni Che non conosco Perché ripeto Sapevo soltanto le sue Due abilità Anche i talenti non li sapevo La prima costellazione dice Che ogni 8000 di HP massimi Che possiede Causerà Di creare Un'altra bomba Con la sua Elemental burst Un'altra esplosiva Elemental burst E si possono creare Fino a massimo di 4 Bombe extra Durante questa In questa maniera Interessante 8000 HP non sono Cioè Arrivare a massimo 4 Per quindi si tratta Di Matematica Non è un'opinione Ma io faccio schifo Con le mie opinioni Quindi 2400 2400 Devi avere Di HP massimi Una cosa del genere Io sono lento Con le mie dita Per fare 3200 HP Devi avere Praticamente No 32000 HP Non so pochi Ma neanche tanti In realtà Perché se poi buildate Mi date come sta Dicendo qui Poi mi date Una spada Che c'ha HP Magari E' ancora meglio Quindi si potrebbe Anche fare Per avere Dei danni extra La seconda Costellazione Quando è in modalità Pacco Quando è in modalità Pacco Praticamente Darà uno scudo Ah quando Entrerà in contatto Con altri Membi del pat Usate Che non ci sto vedendo No letteralmente Sto un attimo Ok Si stava Annabbiando un attimo Alla vista Sto avendo problemi Ragazzi Non lo so Grazie di salute Quando tocca Praticamente Aliati Praticamente Da praticamente Uno scudo Praticamente Questo scudo Guadagna C'ha 40% Di danni Assorabilimento Di danni Del 40% Delle elementi Quello che faresti Con lo scudo Praticamente Di quello che Che sia normale Assorbirà Assorbe i danni Di dentro Per il 250% Effettività Dura 12 secondi E che può essere Attivato una volta Per ogni personaggio Una volta Ogni 10 secondi Quindi alla fine Della fiera Se c'hai la seconda Costellazione Importante Che tu abbia HP Perché se Questo scudo Si basa Sui tuoi HP massimi Quando lo dai Gli altri Alleati Equivale a Dargli più HP Praticamente E dargli uno scudo Bello potente Quindi è come Un po' Diona Che c'ha Lo scudo Di HP Beh in effetti È una Diona Versione potenziata Perché Diona C'ha qualche problema Con utilizzare lo scudo In effetti La durata Dello scudo A volte è inconsistente E cose così Questo l'ho notato Quindi potrebbe essere Una budget Un'altra Diona Più o meno Senza l'Ealer Praticamente Senza l'Ealing La terza costellazione Ovviamente È l'upgrade Delle abilità Quarta costellazione Dopo che un personaggio Attivo Ha protetto Dallo scudo Di qualsiasi tipo Sia della seconda Costellazione Che dell'abilità normale Colpiscono con un attacco Normale Caricato Un attacco in carica Kirara fa Un attacco coordinato Usabilizzando Una Di quelle esplosive Che fanno Di quelle esplosioni Praticamente Di quelle bombe Che fanno 200% Del suo attacco Come danni da dendro I danni infatti così Sono considerati Le mental burst Quindi in base Al livello dell'abilità Fai più danni Questo effetto Può essere attivato Ogni 3.8 secondi Questo cooldown È condiviso In tutti gli altri Membi delle parti 3.8 secondi Sono tanti Steed O Scanda 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 Dove l'ho già sentito Sto nome Prima è un'armatura Di Monster Hunter Però mi pare che Mi sa C'è un Dimità di qualche tipo Che cavalca Una tigre Tipo Guardatemi Eccolo qua Che si chiama Cartikeia Dio indiano Tamila Nella guerra Della vittoria In battaglia Il dava della guerra Viene considerato Una ripropozione De Tamila Scanda Sbillate Che Ruta Siva Getta a fuoco Secondo genio Shiva Parvati È fratello Di Ganesha Concevito Per uccidere Il demone Sto Vediamo Se c'è qualcosa A che fare Con un gatto No Per il momento Non Sembra Però forse Ha senso Per sta cosa Del dedo della guerra Ha senso L'emelo 5 Scusate La mia curiosità A volte Prende Il concetto Prende proprio Possesso di me La costellazione 5 Ovviamente Potenziamento Delle Elemental Burst Numero 6 Che è la più forte Di solito Tutti i membri del party Guadagno Danni elementari Il 12% Danni elementari Entro 15 secondi In 15 secondi Dopo che Kirara Utilizza L'Elemental Skill Elemental Burst Non male Non male Non ho capito Ah è una scatola Arcella Per di parcella Parcel Che vuol dire Oh Ma è una pacco In inglese No 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 Facciamo vedere Le abilità Sinceramente parlando Non so dove la potresti Al momento C'è gente che la utilizza Cose così Non so dove la potresti Ah Diciamo Inserire In contesto Funziona così Vedo Perché puoi fare Bloom Difficemente passando Col Vabbè C'ho Barbara L'unica pecca È che Il Bloom Non è Una delle reazioni Migliori al momento Purtroppo Quindi Non è proprio La reazione Top Di gamma Che potresti avere Adesso Il Bloom Molto meglio La Hyper Bloom Per questo fa vedere Che ci sono C'è Fish e cosa È Barbara Insieme Non è male Devo dire C'è un 4 stelle Niente male Devo dire Budget Supporto Diciamo Perché fa lo scudo Già che c'è lo scudo Tecnicamente Sarebbe considerato Supporto Ma Se avessi avuto Un effetto Del tipo A parte la 3.8 Secondi con la Castellazione Ok Se avessi avuto Un effetto Del tipo Ti A parte L'elemental bonus Quello là Che ti dà L'ultima castellazione Se avessi avuto Un bonus Del tipo Quando sei sotto Uno scudo C'hai dei danni Extra Cosa che se non sbaglio C'hai con il set Bolide Mi pare Che dovrebbe essere Adesso dovrebbe essere Abbastanza comodo Da avere adesso Con la nostra storia Degli scudieri Scudieri Vabbè Degli personaggi Che danno scudo Non me ricordo Mi pare che Bolide Dasse un bonus Se c'hai uno scudo O era solo per Eh infatti Normal attacco Caricato Quindi potrebbe Funzionare L'unica pecca Lo scudo Principale Quello che dà Semplicemente Con il proc Con l'attivazione Semplice Della Delle elementa Skill C'ha una Una cosina Un assorbimento Solo sui danni Di dentro C'hai nel senso Di assurdo Solo sui danni Di dentro Però c'hai anche La possibilità Di averlo Di danni normali Con l'altra Abilità Quindi c'ha senso Potrebbe essere buona Per avere molti scudi Che quando hai bisogno Di un personaggio Che c'hanno scudo E cose così Di armi Penso che comunque Possa funzionare Un qualsiasi tipo Di arma Che gli da Energy Recharge Gli da La possibilità Di avere l'abilità Facilmente Quindi forse La Sacrificial Per avere più facilmente Lo scudo Per spammarlo Come supporto Oppure qualcosa Con l'elemental master Se ci sta Per guadagnare Qualcos'altro Quindi c'è Ripeto È appena uscito Io non sono così Capace da Tirare giù Velocemente Una build Quindi bisogna Vedere E niente Al momento ripeto Non c'è stato Il drip marketing Io sono appena entrato Quindi si è aperto Tutto Non c'è stato Il drip marketing Quindi non ci sono ancora Stati presentati Altri personaggi Futuri Se ci sono personaggi Nuovi C'è anche la possibilità Che nella 3.8 Non avremo altri personaggi Ma Sembra strano Però c'è Siccome la 3.8 Sarà una parcia Molto importante Io so Punterò Io punto per caso A stavolta Ragazzi C'ho il 50-50 Penso che 20 wish È fatto Ho finito Non mi serve Nient'altro Anche perché Sono in modalità Super risparmio Perché mi sto cercando Devo fare la PlayStation 5 Perché stai uscendo Per su una Super PlayStation 5 E ho bisogno Della PlayStation 5 E siccome sono Di su 40 Senza soldi Devo fare così E niente Manca di che posso Fare lo streamer Per guadagnare qualche soldo Perché tanto Non ho computer Quindi mi attacco a cazzo 2.23 Non ho computer Bella roba E niente Ci vediamo Se vi interessa Questo nuovo personaggio E niente Ci vediamo I prossimi video Ragazzi Vi vedo con E vi padrono Bye 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 Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.